Allora, molto bello questo capitolo che introduce delle brevitate vite di Seneca, un'opera strettamente filosofica, anche se non dobbiamo aspettarci da Seneca dei sistemi e dei costrutti organizzati, così come erano quelli del mondo greco. Sempre si caratterizza qui, nel mondo latino, il pragmatismo, la praticità, e le riflessioni di Seneca non sono riflessioni fondate su una metafisica, su un'opera etica strutturata, su un'opera gnosiologica, eccetera, ma è fatta di consigli pratici, ma quanto mai interessanti. Allora, vediamo un po' di tradurla. Allora, direi che siamo, nella proposizione, principale, proprio nelle prime parole, non abbiamo infatti particelle subordinanti. La maggior parte degli uomini, dei mortali, o Paolino, con queritor si lamenta della malignità della natura. Questo quote direi che potrebbe essere un esplicativo per il fatto che non lo vedrei, è un quote causale, per il fatto che siamo generati in esigumei evi. Qui c'è un genitivo partitivo che non possiamo tradurre letteralmente nell'esiguo di tempo, per un tempo breve, per il fatto che, attenzione qui la costruzione, ec sta con spazia, temporis sta con dati. Allora, per il fatto che questi intervalli di tempo dato a noi, the current, passano, tanto velocemente, tanto rapidamente, adeo ut, ci troviamo in una consecutiva, adeo ut, vediamo, eccetera, se complementa oggetto di destituat, il soggetto di destitua è vita. La vita abbandona tutti gli altri nello stesso apparato vite, nello stesso pieno, nella stessa pienezza della vita. Poi c'è un ablativo assoluto, ad eccezione di un numero molto esiguo, esclusi molto pochi, paucis e soggetto, exceptis il participio passato. nec, uic, pubblico, ut opinantur, malo, turbatantum, et in prudens vulgus, in gemuit, abbiamo una proposizione principale, quella che seguirà sarà una coordinata alla principale. In gemuit vuol dire lamentarsi, quindi, e non si lamenta in gemuit di questo male pubblico, ut opinantur è un incidentale, come pensano, tanto vuol dire solamente, no? Et in prudens vulgums, solamente la massa della gente è il volgo ignorante. Abbiamo quindi due soggetti, turba e vulgus. Clarorum quoque virorum, mica affectus querellas evo cavit. Anche, beh, quoque e tra clarorum virorum. Partiamo dal soggetto. Questo pensiero, questo sentimento, ha guidato, che cosa? Le lamentele, anche degli uomini illustri. Virorum, clarorum. Inde illa maximi, medicorum, exclamatio, est, vitam, brevem, esse, longam, artem. di qui illa exclamatio maximi medicorum, attenzione che qui, di non cadere in questo trabocchetto, no? Di qui c'è quella esclamazione di chi del più grande tra i medici, non dei più grandi medici, eh? maximi è un genitivo singolare ed è un complemento di specificazione, medicorum invece è un genitivo plurale ed è un partitivo maximi, infatti, noi l'abbiamo tradotto con un superlativo relativo. E questa frase che si trova tra virgolette io non l'avrei vista tra virgolette perché è un discorso indiretto e infatti abbiamo un'oggettiva sottinteso questo più grande tra i medici dicevat cosa dicevat? Diceva che la vita è breve l'arte è lunga. ind aristotelis cum rerum nature gigentis minime convenia sapienti virulis anche qui ci sono dei verbi sottintesi innanzitutto abbiamo una proposizione qui che poi si conclude con un punto e viego le due punti che manca di soggetto perciò io metterei un est perché un est perché il nominativo che qui troviamo è l'is l'is litis che vuol dire lite e l'is è un nominativo cui si unisce a convenience quindi di qui no l'is come potremmo definirla vediamo di qui di qui di qui la controversia mettiamo così di qui nasce potrebbe anche esserci un oritur la controversia convenience minima per niente conveniente ad un uomo sapiente la lite di chi di Aristotele exigentis exigentis tra con Aristoteles che ha un dibattito che dibatte dibattente con la natura e in che cosa consiste questo dibattito e di nuovo abbiamo un discorso diretto che però è diretto fino a un certo punto secondo me non dovrebbe essere presentato con le virgolette perché è retto dato che ci troviamo chiaramente in un'infinitiva il min dulcisse e poi stare eccetera in ogni caso c'è diceva sottointeso diceva e lo dobbiamo mettere perché adesso vediamo che c'è l'infinitiva seguita da una coordinata l'infinitiva etatis illam animalibus tantum indulsisse ut quina ut denas secola ed ucerent omini in tan multac mania genito tanto citeriorem terminum stare cosa diceva diceva che quella cioè la natura indulsisse tantum etatis animalibus diceva che aveva dato agli animali tantum etatis tanto di vita quindi una lunga vita poi questo tantum si collega con l'ut una vita così lunga che gli animali soggetto conducono cinque volte per ciascuno o dieci volte per ciascuno che cosa il tempo che viene destinato ad una generazione quindi cinque volte per ciascuno o dieci volte per ciascuno generazioni cinque o dieci generazioni per ciascuno all'uomo e poi omini abbiamo genito che si riferisce all'uomo omini generato in tam multac mania in situazioni in imprese tan multa tanto numerose e tan mania e tanto grandi all'uomo tanto citeriore terminum stare terminum è il soggetto di stare un termine in calza tanto più breve quindi questo tanto esce in o perché sta davanti a un comparativo quindi invece di tam per lo più noi troviamo l'uscita in o terminum soggetto di stare ha un attributo citergiore e tanto albergue che modifica questo attributo ma Seneca non è d'accordo e afferma categoricamente non esigo un tempo li sabemos sed molto un perdidimus non abbiamo un tempo di nuovo c'è la costruzione latina non abbiamo un esiguo di tempo quindi diciamo non abbiamo un tempo breve ma ne abbiamo perduto molto sempre di tempo satis longa vita et in maximarum rerum consumazione large data est si tota bene collocaretur qui abbiamo un periodo ipotetico della realtà come mai della realtà se troviamo nella podosi nella protesi il congiuntivo imperfetto perché abbiamo detto più volte che quando come periodo ipotetico della realtà indipendente nella protesi c'è un soggetto indeterminato possiamo trovare anche il congiuntivo quindi la vita è dunque data est ci è stata data una vita abbastanza lunga e in consumazione large e per diciamo realizzare per la realizzazione larga ampia lo trasformate in un aggettivo in maximarum rerum delle opere delle azioni delle imprese più grandi quindi lunga vita è il soggetto data est in quale scopo in quale fine in consumazione rerum maximarum però c'è una condizione se collocare se consumata tutta bene sed l'u'bi per luxum ac negligentiam difluit l'u'bi nulli buone re impenditur ultima demu necessitate cogente quamire non inteleximus transisse sentimus allora questo u'bi ha valore temporale però volendo potrebbe anche avere valore condizionale la vediamo nella traduzione ma u'bi u'bi sono due ripeto o temporali oppure possono essere considerate condizionali e in ogni caso se sono condizionali si trova in un periodo ipotetico della realtà difluit impenditur e sentimus allora ma quando parliamo della vita passa nel lusso e nella negligenza quando impenditur nulli buonerei si rivolge a nessuna buona impresa questo è la temporale oppure se vogliamo la condizionare la protasi poi abbiamo un ablativo assoluto ultima necessità tecogente con demum avverbio quindi premendo l'ultima necessità alla fine quindi vuol dire arrivando esplicitamente nella consapevolezza alla morte che cosa capita all'uomo sentiamo attenzione che qui la costruzione non è proprio semplice sentiamo di aver trascorso quella che non abbiamo percepito che trascorresse quindi sarebbe opportuno io che ho messo tutto lo stesso colore però c'è unire che fa da una proposizione ulteriore quindi il verbo questa il verbo della della podosi e il verbo della proposizione principale regge un'infinitiva con eam sottointeso un eam che viene mangiato nel quam visto che eam e quam si trovano nello stesso genere numero caso non è necessario mettere il dimostrativo dunque sentiamo di aver trascorso quella che e dunque c'è una relativa di secondo grado non abbiamo sentito ire trascorrere un'altra infinitiva quindi principale primo grado secondo grado terzo grado id est non accipimus brevem vitam sed fecimus nec inopes eius sed prodigi sumus è così non riceviamo una vita breve ma ce la siamo fatta ne siamo inopes eius privi di quella ma prodigi quindi vedete abbiamo una principale e una coordinata alla principale sicut ample et rege qui c'è una comparativa inizia col sicut continua con lita come così sicut ample et rege opes ubi ad malum dominum pervenerunt momento dissipantur at quambis modice sibono custodi tradite sunt usu crescunt ita etas nostra bene disponenti multum patet possiamo anche se è chiaro che la proposizione principale non è all'inizio quesicut è una comparativa ubi una temporale dissipantur fa parte della comparativa sicutan di nuovo abbiamo un'altra temporale che ha sottinteso ubi at ubi modice e qui di nuovo un'altra comparativa che terminano con la principale poi ho voluto staccare questo bene disponenti che potrebbe essere svolto in una relativa impropria con valore temporale quindi come le ricchezze numerose e regali quando sono pervenute ad un cattivo padrone sono dissipate in un attimo e sebbene modeste parliamo sempre delle opes delle ricchezze se sono affidate a un buon custode crescono con l'uso così la nostra vita patet multum si estende molto per chi per chi la sa io ho messo sa come frasiologico la sa usare bene la sa trascorrere bene è ok